Facciamo di vittura del posto. Innanzitutto, buonasera. Abbiamo deciso di ambientare il romanzo di Mangioni Nostri con i personaggi degli anni 50 per riprendere un po' quello che faceva Mangioni perché lui scriveva nell'Ottocento ma il romanzo era ambientato nel Seicento. Abbiamo deciso di vestire i cattivi, rocchettari, ad esempio di Rodrigo, proprio l'està, con vestiti neri o aggressivi. Padre Cristoforo con il saio e tutti gli altri personaggi vestiti con i vestiti giusti. Per la scelta del copione non sapevamo se fare dialogo oppure la voce narrante. Alla fine abbiamo scelto il dialogo e ci siamo accorti che parlare con il linguaggio che utilizzava Mangioni e registrare la nostra voce era molto molto difficile. Un pianto.